buon pomeriggio a tutti sono enzo moretto della butterfly arc esapolis e siamo qui per questo primo webinar sul farfalle di colli ugani rivolto a tutti quelli che vogliono conoscere questo bellissimo mondo che è vicino qui ai nostri colli e con me c'è gialluca doremi che lo faccio subito in studio ciao gialluca ciao buonasera a tutti per chi è stato nelle dirette che facevamo durante il periodo del covide ti conoscerà sicuramente ma gialluca lo potete conoscere anche perché tiene un sito molto bello magari lo facciamo già vedere io già lo aggiungo così eccolo qua magari gialluca dici tu questo il tuo sito personale praticamente dove fai vedere molte storie di farfalle e cerchi di documentare quello che ti gira un po attorno diciamo no sì più che altro pianura e collina farfalle della pianura collina del veneto orientale del frio del firulli orientale no veneto orientale friulli occidentale e zona dei colli apposita anche il centro del veneto sono divisi ho tentato di fare un sito abbastanza semplice in cui si può cercare o per specie per famiglia entriamo nelle famiglie e qua ci sono le specie presenti nel sito divisi come ropa locera che sono le farfalle diciamo e liete rocera che sono le falene che si possono trovare attraverso le famiglie ecco questo la grande linea allora andiamo avanti veloci e con noi c'è anche veronica lunardi che si che si sta laureando in biologia all'università di ferrara e che sta buonasera veronica e che stiamo seguendo come correlatore per una tesi su proprio sulla questo progetto che adesso andremo a vedere di citizen science in collaborazione col parco regionale dei colli ugani e che ha promosso appunto nel progetto che si chiama cez la appunto una serie di iniziative da parte di istituzioni associazioni prese persone eccetera che se che gravitano nell'area dei colli noi come batter free archi abbiamo diversi progetti di volontariato che sono molto importanti perché impegniamo al di là del lavoro diciamo normale incipiamo nostro tempo con gianluca per esempio stiamo lavorando vedremo anche il documentario che si chiama micromondi allora io mi avventuro subito anche con la presentazione ecco di questo webinar vedete che ci sono anche tanti altri nomi ecco chiede chiede appunto il l'area di angeli peraltro se possiamo la salutiamo anche come salutiamo anche marco gottardo che conoscente amico vecchio in senso si conosciamo il polio giovane la è molto appassionato anche il sito gianluca do remi no quello che abbiamo visto per conoscere le farfalle giusto gianluca possiamo dire il nome giusto perfetto e magari questo è molto facile trovarlo e qui vedete ci sono anche altri con noi che stiamo lavorando daniele beretta luca bolognin luisa alessandra 40 fan parte del gruppo dei giovani naturalisti sono tantissimi poi sono più attivi anche in grado di classificare specie e scoprire specie molto importanti ne abbiamo fatto anche sì con gli ugani recentemente vediamo se adesso riesco anche a moro in questa presentazione qui vedete il progetto del parco nel quale stiamo all'interno del quale stiamo lavorando il parco sta muovendo in modo importante anche per essere riconosciuto come ma buonesco vuol dire man by diversity e il cezza appunto all'interno anche di questa progettazione del parco e la carta europea per il turismo sostenibile e vediamo un po noi qui appunto abbiamo anche il sito micro megamondo all'interno del sito micro megamondo trovate i link per visualizzare i lavori che stiamo facendo qui c'è un teaser diciamo un'anticipazione di quello che il microcosmo di colli ugani e poi trovate quello che è importante la pagina dei naturalisti con la connessione per mettere le vostre foto immagini del mondo degli invertebrati del parco di colli ugani sono sicuro che ci saranno molte novità noi stiamo facendo già col gruppo dei naturalisti delle scoperte e ci sarà molto da fare perché pur essendo un'area piccola molto particolare poi capito che quando si va a guardare da vicino le cose si scoppiano delle meraviglie che vanno anche tutelate protette e quest'onere appunto poi è anche parte dell'attività del parco e qui vedete anche una pubblicazione ne abbiamo diverse comunque le metteremo anche questa sulla linfa del corbezzolo che vedremo poi nel prossimo webinar che riguardano altre famiglie di farfalle che abbiamo descritto da poco essere presente sul parco di colli ugani una delle più belle farfalle d'europa e poi appunto il progetto di citizen science e se cliccate andrete a vedere tutte le informazioni ecco qui vedete anche la pagina di naturalist dove si possono vedere che ci sono già 1545 osservazioni 502 specie sono parecchi identificatori eccetera chi volesse poi avere informazioni può entrare in questa rete di informazioni mettere le proprie immagini di raccolte mentre entrano al parco dando già localizzazione informazioni eccetera e questo per dirvi in velocità ecco ci chiedono ci chiede valeria amadio se è possibile vedere anche il eccola qua i webinar anche dopo la diretta certa senza dubbio rimane rimane registrato rimane registrato sui siti facebook e youtube che voi avete già e potete continuare riguardarveli praticamente saluto anche emilie faraldi ma in re dei angeli sono tantissimi che si stanno collegando che ci fa molto piacere e procediamo se siete d'accordo san luca e veronica se non ci sono altre informazioni o cose che volete aggiungere procederei con la nostra con l'inizio così dando l'inizio per la cosa per la quale siete collegati cioè conoscere le farfalle devo dire che c'è stato un piccolo refuso nella comunicazione non non parleremo di papi un'idea che anche il supergruppo diciamo che comprende molte più specie ma un'ana è che si invertono comunque non importa papiglionide e ci saranno ancora dei piccoli refusi perché sapete fare una pubblicazione scientifica ci vogliono mesi e anni fare una presentazione cerchiamo di mettere insieme al volo molte cose si rischia anche di lasciare qualche pezzettino ecco vedete qui subito l'immagine di una zampa che non è certo un'immagine bella come ci si aspetta di una farfalla ma per darvi l'idea questo piccolo sperone che sta sulla zampa anteriore di queste farfalle dà già l'idea che sono papiglionidi cioè li vedremo adesso quelli che diciamo qualcuno per darvi un'idea di quelli che si trovano anche in italia e sapete cosa serve a questo piccolo speroncino che c'è sulle zampe i papiglionidi poi ci si trova anche in altre farfalle e si trova anche in altri in altre famiglie diciamo di farfalle ma solo molto particolari e servono per pulirsi le antenne praticamente la farfalla si passa alla zampa anteriore sulle antenne e questo piccolo sperone che caratterizza poi la famiglia come altri caratteri come anche questi per esempio guardate subito per capirci vedete qui la forma tipica di un papiglionidi con le code perché molti hanno anche le code sulle ali le vedete e c'è una venatura la vedete qui sull'ala inferiore e le altre farfalle diciamo che volano di giorno quelle che sono non sono falene tra virgolette che sono una vera classificazione vedete che hanno due venature si chiamano anali perché stanno vicino alla parte più estrema dell'addome e queste nei papiglionidi si vede che c'è una nervatura sola questo è un altro elemento distintivo non è questo modo che avremo di procedere anche nella presentazione perché si chiamano di maniera abbastanza di superficie ma tanto per darvi alcune indicazioni che sono utili per distinguere le parole queste sono specie che non ci sono sui colli uganei questa peraltro anche se potesse esserci non sarebbe lei questa è la Cassandra come si chiama Zerindia Cassandra da noi potrebbe arrivare la Polixena io sono convinto che un tempo c'era e questa sarà e ve la faccio vedere perché potrebbe essere una delle specie che potrebbe comparire perché queste qui sono specie sollegate a ambienti anche che si riformano con la presenza della pianta nutrice vedete la listolocchia in questo caso da noi dovrebbe essere la listolocchia rotunda non questa e queste farfalle praticamente potrebbero anche esserci nei colli ugani e dintorni ci sono sicuramente nelle zone di Iberici e ci sono in altre aree ali sono a spot compaiono e scompaiono una delle farfalle dei papilloni più belle che abbiamo prego Gianluca se volevi dire qualcosa se volevi Enzo mettere un attimo in condivisione da me c'era la Zerindia Polixena diciamo che sono praticamente distinguibili le due è molto difficile distinguerle il bruco si riesce a distinguere perché a differenza della Zerindia Cassandra non ha gli apici neri mentre il bruco della Zerindia Polixena ha gli apici neri fantastico però diciamo che qui vedere la Cassandra sarebbe la notizia anche se poi con i cambiamenti che ci sono stati che ci sono del clima, il riscaldamento, le migrazioni di piante eccetera anche l'uomo lo stesso che le trapianta, le trasporta, i semi eccetera dovremmo aspettarci anche qui delle variazioni in verità la natura, l'ecosistema non è mai fermo qui vi faccio vedere alcune specie che non ci sono sui colli probabilmente in epoca glaciale forse qualcosa c'era anche perché in alcune parti dei colli sulle cime per esempio ci sono molte piante che potrebbero essere anche piante nutrici come i sedum ci sono ancora però queste farfalle diciamo parlo del Parnassius Apollo perché gli altri due non hanno il Mnemosina e il Febus che vedete qui la polla a sinistra i Febus si trovano in montagna e anche abbastanza in alto questo si può trovare più in basso però da noi non è mai stato segnalato non so Gianluca se tu hai notizie no perché mi fermo alla collina, alla base delle colline perché andare su montagna mi si riempi di specie nuove ecco c'è qualcuno che chiede qui ecco vediamo qui una domanda scusate perché devo seguire cosa pensate di questi schiavizi che vendono Bruchy farfalle da crescere, non è il nostro oggetto del nostro, io lascio che facciano se sono in regola con le leggi e tutto io direi che è un'opinione poi di qualcuno se possono essere interessanti o meno li lasciamo il tempo che trovano le nostre opinioni, devono essere a norma con le leggi ed è bene che possono mandare i Bruchy eccetera poi c'è tutto un discorso di chi si fa un po' più di mal di testa o meno che possono essere legittimi ovviamente se vale la pena di liberare specie autoctone che non sono adatte a quell'ambiente perché anche se una specie autoctona vive in Europa per esempio il Macaone poi ha un sacco di sottospecie che sono adattate e quindi si va a mescolare cose che non sono di quel posto ma poi sapete la natura tende a riequilibrare molto, io non sarei molto preoccupato di questo e potrebbe essere più preoccupante in zone di isole o zone dove c'è forte endemismo chiaramente si perde un po', potrebbe succedere che si inquina un po' la genetica diciamo del posto però vorrei fermarmi qui allora, specie non autoctone come chiede qualcuno forse se ho capito bene non si possono liberare a meno che non scappino dalle case del farfalle come c'è anche noi ma sono specie tropicali che non possono vivere o qualcuno le libera in verità c'è molta gente che traffica che non regolarmente come noi ma sono specie che non possono assolutamente vivere da noi e quindi avrebbero quell'attimo di vita di felicità, di volo diciamo da noi ma se si può dire felice ma non avrebbero possibilità di colonizzare il nostro ambiente è ben diverso le specie di notturne più piccole eccetera che possono trovare o che vengono in ambienti simili io procederei avanti perché abbiamo tante da far vedere questa è la specie che si trova da noi bellissimo il macaone lo si trova su un sacco di apiace sulle rutace io l'ho visto deporre anche sui limoni qualche volta credo che si chiamavano ombrelifere una volta anche poi i nomi sapete adesso giocheremo un po' con i nomi perché cambiano di continuo una caratteristica una caratteristica di papiglioni Gianluca dillo tu questa struttura rossa che vediamo qui lo smeterium è un sistema di difesa del bruco del macaone e di anche altri papiglioni non ce l'hanno tutti ma molti ce l'hanno è un sistema di difesa per intimidire un eventuale predatore con questa escrescenza arancione nella foto la vediamo solo non è ancora completamente estroflesso è come rovesciare un guanto soffiandoci dentro esatto è allo scopo proprio di intimidire e spaventare un eventuale predatore è un odore molto forte si porta dietro delle sostanze che estragono dalle stesse piante sono repellenti a volte sono quasi dei profumi in everità sono abbastanza concentrati per noi non per i predatori certamente no allora prego prego no no vai tranquillo vai avanti tu perché ho visto che ci sono le uova e qui faccio vedere anche le uova del macaone un bruchetto che sta mutando che cambia pelle avete questo per idea che cosa far fare hanno questi passaggi questo è un po' rovescio l'immagine ma purtroppo soffrono tantissimo di malattie e predazione e parassiti in natura è una cosa normalissima quindi se raccogliete bruchi o trovate crisali di eccetto in natura è probabile che siano parassitate o che si possono ammalare il macaone è uno di questi per esempio si fanno spesso levare questi animali ma bisogna non tenerli più di uno o due bruchi perché poi quando diventano troppi non sono molto adatti a stare stretti insieme e poi non toccare le piante dove stanno perché noi possiamo passare dei batteri diciamo anche dei virus a questi animali non loro loro non ci passano nulla a noi ma noi possiamo infettarli sono animali che sono bisogno di stare sulla vegetazione qualcuna delle farfalle vediamo poi anche su arbusti o alberelli eccetera lì non toccano terra e chiaramente i batteri del terreno per loro sono un problema mentre noi mettiamo le nostre manine dappertutto e quindi possiamo toccare impestarli ecco una cosa caratteristica che poi vedremo anche su altre farfalle è il comportamento il Macaone è proprio caratteristico lo vediamo anche su Cavolai eccetera tra il cosiddetto il topping questa è una pubblicazione che abbiamo fatto diversi anni fa e che ha mostrato come funziona l'il topping nel Macaone l'abbiamo fatta sul gruppo del Monte Ceva tra Battaglia diciamo e Galzignano e Monte Grotto quel gruppo di Monti che guarda sud-est e lì i Macaoni si concentrano ma in tanti altri colli anche in città lo trovano rilievi eccetera dove i maschi si confrontano e fanno questi voli corotati vedete qui l'immagine per confrontarsi tra di loro scacciarsi e poi tornano al sito dove aspettano che passino le femmine questo è un tipico comportamento di questi bellissimi animali guardate i Macaoni sono splendidi ora quello che voglio dirvi già ora è che se si pensa di conoscere tutto perché sono farfalle comune ci si sbaglia come si comincia a guardare da vicino qualcosa è proprio lo stimolo che voglio darvi si vedrà che ci sono miriadi di sfumature di comportamenti non è l'unico comportamento del Macaoni in questo caso ma non l'unica morfologia di questo animale ci sono dei cambiamenti di colore vedremo in altre specie sfumature adattamenti a seconda dei luoghi piante che possono colonizzare potranno sorprendere e tante altre colorazioni dei bruchi poi non ne parliamo e il Macaoni può avere colorazioni anche molto melaniche diverse scure eccetera anche lo stesso Macaoni ne ho visto uno completamente nero quasi che aveva colorazioni veramente molto particolari perché ci sono tanto la genetica sapete non è stabile eccetera ma anche questa genetica non stabile consente l'evoluzione di forme che possono trovare adattamenti in condizioni particolari e formare nuove popolazioni molto più adatte a sopravvivere o anche comunque in grado di sopravvivere in determinati ambienti o nei cambiamenti dell'ambiente abbiamo un sacco di testimonianze se dovete dire qualcosa interrompetemi pure sì non c'è problema va benissimo ecco qui vediamo invece una specie che voi non vedete ma avete a confronto in questo momento starà volando in Sardegna e Corsica questo è il famoso papiglio ospito protetto dalla convenzione di Washington allegato A quindi appendice 1 allegato A siamo alla massima protezione in verità il papiglio ospito non è assolutamente a rischio né per la raccolta dei collezionisti né per l'ambiente perché è legato a ambienti che ancora esistono in Sardegna però è stato deciso di proteggerlo anche perché è una specie simbolo delle volte un po' si esagera si esagera perché poi oggi bisogna un po' esagerare perché l'ambiente sapete è molto maltrattato si cerca di esagerare anche per chiaramente tentare di spingere dietro alcune specie molto belle panoramiche la protezione dell'ambiente in modo più complessivo devo dire poi che il tema dell'ambiente è molto veramente non complessivo ma complesso quando si va a proteggere l'ospito non si tiene conto che si protegge un ambiente che è generato anche dall'uomo anche con grazie alle pecore e al pascolo si tiene anche molto così questo spazio dove vive allargato da questo tipo di attività umana a volte si fanno attività per diserbare questi ambienti perché sono piante verenose che crescono ma che le pecore non le vogliono mangiare non le possono mangiare la ferrula in particolare che è una piaccia alla sua pianta nutrice cosa succede? se si va a diserbare questa pianta toglie la vita la bisogna di vivere all'ospito ecco quindi prego è un po' come la zerintia polixena allo stesso principio perché anche la zerintia polixena è protetta a livello europeo e vive sull'aristolochia non è che sia una pianta molto ricercata né per il pascolo né per il foraggio perché cresce però abbastanza spontaneamente i luoghi dove ci sono argini eccetera certo che le pecore non la mangerebbero e per questo la seleziona sempre di più dove c'è pascolo e questo migliora anche la presenza della farfalla alla fine sì 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 ecco ecco l'altro meraviglioso papiglione che abbiamo è il podalirio anche lui riconoscibile per un volo particolare degli adulti che escono presto in primavera sono te farfalle che svernano come crisalide e sfarfallano appena fa un po' caldo anche molto presto e poi è riconoscibilissimo nei periodi più caldi diciamo di più il podalirio e perché va su e giù continuamente sotto i maschi perché invece di fare il cosetto il topping cercare un punto particolare dove contendersi il territorio ha una riga una fila una siepe un bordo di un bosco eccetera che sceglie di pattugliare continuamente quindi sembra di vederne tanti magari una sola che va su e giù continuamente poi intanto si appoggia quando vede qualcuno che passa gli corre dietro anche lui si corrono dietro fra specie diverse basta che caschi che la foglia loro scambiano per un avversario e sapete com'è insomma bisogna anche di capire qui c'è il bruco molto mimetico si trova su rosacee normalmente ecco qui c'è prunus crategus eccetera anche prugnoli un metodo facile per trovare i bruchi per tanti andare in mezzo a queste vegetazioni con queste piante vi si attaccano addosso perché vederli è difficile però guardando attentamente poi si trovano anche i bruchetti nella stagione giusta ovviamente del podalirio allora io se non c'è altro da aggiungere Gianluca mi fermo qui vediamo qui c'è una domanda da posso trovare informazioni riguardo all'evento finale allora l'informazione riguardo alle salutiamo Aurora l'evento finale è proprio sul nostro sito micromegamondo Cez e Veronica puoi darci tu le date ora condivido il link della pagina del sito così possono trovare tutte le informazioni per l'evento e per i prossimi webinar benissimo tu condividila la condividi dentro la chat oppure perfetto perché poi condividila anche qui che la facciamo vedere comunque va benissimo così intanto così procediamo ok la scrivo in chat allora si come vuoi si scrive in chat comunque basta si collegano al micromegamondo vadano su parchi eccetera trovano il chat e trovano anche sulla pagina principale di micromegamondo il collegamento per giugno per l'11 giugno mi pare no Veronica esatto l'11 giugno eccolo qua ecco adesso entriamo anche in un'altra famiglia di decenide qui vedete una lista di specie dei poliomatide e poliomantine che sono la sottofamiglia appunto qui abbiamo messo le specie che si trovano che noi abbiamo trovato in letteratura ma anche personalmente e che noi come persone abbiamo trovato e che corrisponde per il momento a quello che si sa che c'è sui colliugani naturalmente ci aspettiamo che se ci fosse un'attività più importante di ricerca potremmo vedere sicuramente che salta fuori qualcos'altro bisogna i colliugani pur essendo non grandi hanno un sacco di situazioni spazzettature versanti eccetera poi vi ho detto ultimamente c'è anche un ingresso di specie particolari o il territorio sta cambiando perché da quando ricordo è partito il parco è cambiato profondamente sia come qualità boschi ma il fatto che ricresce la foresta fa ridurre per esempio specie che sono più di prato oppure magari oggi si investe molto in vigneti e sappiamo sono state anche delle polemiche recentemente sull'uso dei pesticidi abbiamo visto qualcuno che non ha avuto riguardo ha lanciato anche ha buttato pesticidi che hanno creato problemi alle apie quindi bisogna stare molto attenti perché poi le specie ne soffrono io ricordo tanti anni fa per esempio la scomparsa di molte falene anche per l'effetto di pesticidi che venivano buttati a 100 km di distanza sui meleti parlo parlo dei anni 90 ancora dopo per cui fate attenzione perché vedere volare farfalle è un indicatore della qualità dell'ambiente quando scompaiono perché sta succedendo qualcosa se non lo segnala nessuno è perché non si vede o non si vuole e se voi conoscete le farfalle questo chiaramente vi accorgete e quindi stiamo attenti come cittadini anche alla sorveglianza del territorio grazie alla conoscenza facile di questi animali che si fanno vedere e quindi ci consentono di conoscere il territorio e difenderci senza bisogno che c'è qualcuno che si riguarda è cambiato qualcosa se ne accorgiamo da soli entriamo in questo piccolo prima sottofamiglia di vicende che sono animali bellissimi sono animali di piccole dimensioni sono farfalle di piccole dimensioni sono anche alcune devo dirti già Luca non facili da riconoscere sì lo so me ne rendo conto me ne sono reso conto quando Marco guardate qui che saluto ancora Marco Guattagli si può essere cazzino 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 l'abbiamo purtroppo fin dall'inizio è arrivato subito io ho rarroi che in Sudafrica quando arrivò all'inizio proprio all'inizio a vedere questa farfalla c'è altre cose perché viene da lì i gerani ormai non si possono più mettere da tanto tempo lo vedremo poi anche cazzino lo abbiamo listato ovviamente presenti non autottone all'ottona ovviamente è stata arrivata come specie aliena chiamiamola così è anche invasiva possiamo dire perché si è mangiata tutti i gerani dei bacconi oltre a quelli salvati ecco vedete per esempio la riccia gestis molto bella piccolina vedete queste caratteristiche naturalmente questi animali adesso li vedremo anche dopo meriterebbero un'esamina molto dettagliata ma voi mettete sui naturalist le foto vedremo anche di classificarle perché lì sarà più facile vedremo anche alcune caratteristiche che permettono ci dicono dove guardare per riconoscere per esempio la riccia gestis vedete qui vedete questo cerchietto che ho fatto che mostra come sono la disposizione di questi tre punti che aiuta a capire se lei da come sono messi in linea diciamo non allineati i tre puntini già ci dà un aiuto per capire la specie rispetto ad altre anche molto simili ci sono specie che hanno le code o le maschi blu per esempio lei non ha il maschio blu e quindi potete riconoscerli perché vedete che poi oppure ci sono altre specie qui vedete che possono assomigliarci ma cambiano i colori arancioni che non arrivano fino in fondo nelle macchiette riconoscerliarci riconoscerliarci nelle ali anteriori e riconoscerliarci e tutto quanto insomma queste situazioni qui che diciamo che gli geniti non sono proprio più facili da identificare come come specie se una se non sei abituato a guardarli a vederli comunque con un po' di pazienza leggero studio si riesce a capire almeno quali sono ma diciamo quelli sui colli riusciamo a capire abbastanza vi mostrerò qualcuno dei più critici se doveste fare una classificazione nazionale europea chiaramente bisognerebbe diventare un po' più bravi ma non preoccupatevi c'è qualche specie nel quale bisogna osservare anche i genitali ovviamente come si spese spesso negli insetti aracni eccetera però qui non è necessario si riconosce anche abbastanza bene dalle foto sapendo il posto e poi insomma se vi dico i dettagli da guardare quando li fotografate ecco vedete anche la pianta nutrice qui qualche pianta la mettiamo agli antem numularium non è l'unica pianta che utilizza ovviamente agrigeranium e pare altre però queste piante qui vedete il bruco tipico di licenide questi bruchetti piccoli sono molto piccoli pelosetti tozzi quindi in generale la famiglia presenta bruchi fatti così no Luca? sì 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 questo mi infatti appena l'avevo visto mi ricordava questo eccolo qua vedete come si assomiglia peraltro ci sono delle caccole scure che non sono difetti della foto ma sono rimasti lì ecco Marco Gottardo che si chiedeva la dottor Gottardo sì questa è una specie arrivata dal Sudafrica ormai minatrice all'inizio diciamo del suo sviluppo come bruco poi si mangia un po' le foglie anche fuori eccetera è molto carina effettivamente la farfalla ma quando ci fa un danno a piante le quali siamo affezionati o che mangiamo perché sono piante coltivate per l'agricoltura chiaramente ci va un po' in antipatia vabbè lei è una specie che vive in natura arrivata da un ambiente simile al nostro Sudafrica Mediterraneo e quindi ha trovato un ambiente ecco questo è il caso di specie piccole che vengono da ambienti simili non tropicali e quindi chiaramente sei insediata vedete qui ci sono anche delle date delle spiegazioni è arrivata insieme ai gerani ovviamente quando le abbiamo importati gran parte delle specie che arrivano io ho fatto parte di una commissione nazionale che per le specie invasive aliene e tutto il resto dannose per l'uomo eccetera per la biodiversità e gran parte degli organismi arriva portato con vivai container terriccio eccetera oppure ci sono questi canali che si aprono nel caso del mare canale di Suez eccetera eccetera l'aumento della temperatura ovviamente favorisce oltre che il cambiamento di ambienti prodotto da noi questa è un'altra specie molto carina la vedete perché questo blu che si spesso presenta margini anche abbastanza grossi diciamo nelle femmine di più diciamo scuri ed è la c'è la strina argiolus carinissima riconosce anche per questo pattern molto chiaro delle ali inferiori con queste macchiette molto ridotte poco marcate rispetto a altri viceni e però ha un sacco di piante tra le quali l'edera che è venenosa per molte specie che è una pianta importante per le farfalle l'edera perché a fine stagione fa delle fioriture magnifiche e non solo mettere alle api ma anche un sacco di farfalle che ci girano attorno quindi amiamo anche l'edera che magari visto che è comune qualcuno non gli è simpatica però vedete qui un elenco enorme di piante cornus l'agrifoglio l'agrifoglio la frangola l'evonimo europeo la caluna eccetera piante molto diverse tra loro peraltro vedete la banda nera che dice che ricorda che appunto le differenze tra maschio e femmina è la presenza più o meno intensa di quella banda più è larga se è larga la femmina se è molto stretta il maschio però è molto caratteristica questa specie è facile di conoscerla già dall'esterno di solito si vede volare almeno da me si vede volare nella zona dei rovi in zona di rovi è facile incontrarla allora vediamo un po' anche chi viene dopo ecco una farfallina piccola con le code vedete qui anche un accoppiamento di farfalle che i copiamenti durano anche molto perché le farfalle hanno un sistema particolare di fecondazione dello spassare delle spermateche praticamente delle scatoline con gli spermatozoi che servono anche a nutrire poi la femmina e dargli sostegno quindi il maschio dà un contributo alla prola importante perché il maschio poi spesso vedete l'adimorfismo di colori la femmina marrone sulla destra e il maschio blu la femmina vuol dire che si va a nascondere a mimetizzare più facilmente si fa vedere poco rispetto ai maschi spesso che si espongono un tempo si vedevano anche molto appoggiati per terra e molti disposti di cenidi a suggero dal terreno vari sali minerali e sostanze importanti anche per i corteggiamenti adesso suggero da terra non è molto si vede che non gli fa molto bene però ricordatevi cosa abbiamo perso c'erano spettacoli incredibili lungo le pozze ancora si vedono c'erano veramente degli spettacoli di farfalle blu appoggiate tutti i maschi solo i maschi hanno questo comportamento le femmine si stanno infatti loro tanto sanno che i maschi dopo gli portano questo contenuto che hanno raccolto anche di sali minerali eccetera col corteggiamento e poi con l'accoppiamento ovviamente dimorfismo accentuato spesso in molti decenni li va dai colori chiari blu bluet violetti eccetera le femmine sul marron scuro con a volte riflessi azzuri di vario tipo il culpido alcetas eccolo qua l'abbiamo visto prima appunto come farfalla adesso lo vediamo anche con le piante nutrici e poi una cosa che ricordo tipica di molti di questi poliemattini che sono insibiosi più o meno obbligata diciamo o facoltativa comunque sanno ben difendersi a trarre le formiche che li difendono o addirittura obbligata perché alcuni devono scendere nel terreno con le formiche quando sono sta l'ervale più avanzato e vanno dentro i formicai e si fanno mantenere o mangiano anche le provviste formiche in alcune specie ecco che ho messo una formica del genere formica esiste anche il genere formica formica il nome italiano ovviamente di questi animali poi vedremo ne abbiamo fatto un caso di uno ma che vale per molti altri di come fanno anche a trarre le formiche a gestirse molti sono legati affabace quelle che si chiamano leguminose diciamo e si portano dietro anche sostanze spesso che contengono queste piante che gli servono per difendersi quindi sostanze abbastanza tossiche anche composti che contengono cianuro o che producono diciamo ecco qua e qui vedete il cupido invece argiades io una volta lo chiamavo Everest argiades sapete i nomi cambiano di continuo sarà chiamato anche poliomatus magari in passato l'Everest è rimasto fra parentesi si fate cupido Everest Arzales fra parentesi Everest i nomi scientifici cambiano perché si scopre che c'era un autore che aveva trovato fatto quel genere o specie prima di un altro e si deve cambiare poi si riorganizza anche la sistematica spesso i generi si dico in base a certi caratteri andrebbe meglio in un genere rispetto a un altro lì un po' si litigano intanto noi subiamo questi cambiamenti di nomi la farfalla è sempre lei comunque non è cambiata bello che spesso te la cambiano anche di sotto famiglia è quello il problema che non te la trovi più da una parte ma la trovi da tutta altra cosa che succede troppo spesso ultimamente ecco però vedete quanto belle sono questi animali sono veramente dei gioielli anche qui vedete che assomiglia al cetas è un po' più piccolo è un po' più grande questo anzi la cetas è un po' più grande e vive anche questo sole gomenosa vi ho fatto anche una diapositiva dove vedete un po' macroscopicamente le differenze tra i due a parte le dimensioni la cetas è più grande la cetas è più piccolo ecco scusate ritorno a quello che ho detto prima e l'allurazione diciamo le macchiette scusate sulle ali in parte inferiore delle ali anteriori vedete la forma una un po' più allungata bastoncino qui l'altra più tongeggiante e poi queste macchie arancio che sono molto più diffuse e che arrivano abbastanza dentro il disegno scuro nell'alcetta se mentre nell'alcetta c'è questa o non c'è proprio l'arancio o se c'è vedete che non è così diffuso corretto di solito è appena accennato ecco quindi anche un po' diciamo il colore non fateci caso che una un po' più scura più chiara sono le foto perché i dicennidi sono imbroglioni nella foto cioè riflettono tantissimo all'UVI se non avete filtri particolari o silemi particolari vi ingannano cambia colore la foto non è come l'avete vista con gli occhi viene fuori diversa la luminosità la sovraesposizione penso spesso tendono a sovraesporvi la foto perché hanno un ribando di luce che voi non vedete ma lo vede la macchina fotografica un altro bellissimo questo è il più piccolo che abbiamo qui sui colli perché poi chiaramente ci sono altre specie di Europa e piccolo piccolo riconoscete subito questa sfumatura bluette poi le ali più scure e si chiama Minimus non a caso è il nostro piccoletto ecco stiamo andando bene vedo che stiamo andando abbastanza veloci un'altra specie bellissima è il Cianiri semi-argus sono tutte farfalle relativamente piccole vedete qui anche ho cercato di mettere una righetta che non è della farfalla dentro il cerchetto per far vedere la sequenza di lineare che bisogna crearsi mentalmente per riconoscere la specie questi tre puntini che ha nell'ala segnati da questa linea che ho fatto io ovviamente più il cerchio che ho messo io non esiste la farfalla vi danno subito la possibilità al di là del colpo d'occhio sul colore la forma le dimensioni eccetera per riconoscere questa specie il Cianiri semi-argus poi questa è una farfalla che mi piace tanto è quando l'ho incontrata la prima volta sui Colli Ugani e queste sfumature azzurre cerulea queste macchiette nere molto vellutato il nero è bellissimo non ho ancora vista io questa davvero ecco dovete andare però anche tu dovresti andare Gianluca nelle parti più soleggiate calcare le piacciono le zone i bordi anche così confine dei prati eccetera nelle zone più calde di Colli Ugani Calbarina per esempio cominciamo a fare anche dei nomi abbiamo fatto prima nomi anche del Cever alcune sono più localizzate in questi ambienti infatti abbiamo un gran numero di queste specie che sono legate a terreni calcarei e a piante che ci crescono anche molto aridi diciamo che appunto si trovano in quelle zone perché appunto poi qui abbiamo il Lampides boeticus una specie che arriva in migrazione questa arriva in migrazione fa delle migrazioni anche le farfalle molto piccole riescono a spostarsi con generazioni successive magari da maggio a agosto vediamo qui e vedete che vanno su diverse che qui la colute Arboresens Citisus sempre Fabace sono molto legate a queste e assomiglia guardatelo bene a questa banda chiara lo distinguete proprio per questo motivo una farfalle molto carina eccolo qua dal Sintaricus dal Leptotes Piritus Sintaricus come lo chiamavo io una volta Piritus comunque come si chiamava anche qui anche rosace si aggiungono altre piante Calum eccetera e vedete che non c'è più una banda chiara lo faccio rivedere al di là del colore diverso spesso un po' però ricorda un po' uno ricorda l'altro vedete come è questo soprattutto esemplare però uno un po' più grande anche come dimensioni questo deve essere questo un po' più piccolo eccolo qua dell'Ampides che è più grande come dimensioni Boeticus è un po' più grande ecco bellissima questo animale anche il Plebeius guardate che blu meraviglioso e la appunto e poi però per distinguere da altre sono molto difficili sono zone impercettibili che è difficile anche bisogna guardarli bene tutta questa serie di quando fotografate queste farfalle ricordatevi sempre di fotografare bene le ali inferiori che si vedano bene e anche la parte superiore perché entrambe le superfici delle ali sia la pagina superiore che la pagina inferiore perché servono entrambe per riuscire a identificarle quando vedete una farfallina blu avete capito che ce ne sono molte e naturalmente vi faccio vedere anche la differenza ovviamente il Plebeius idas è tra quello e questa specie vedete che le macchie arancioni nell'altra specie che ci assomiglia che vedremo finiscono qui non ci sono l'arancione si sfuma fino a quasi a scomparire mentre qui vedete che continua fino in fondo ecco questo è un carattere anche per riconoscerlo non è così facile però noi dobbiamo citarlo perché non c'è alternativa e infatti l'idas lo vediamo qui col suo sfumatura che arriva e sparisce quasi l'arancione praticamente fino in fondo e poi guardate c'è un altro che ci assomiglia il Plebeius l'Argus e guardate per distinguere bisogna vedere se sulla zampina sulla tibia prima di tarsi c'è questo piccolo speroncino che l'idas non ha e l'Argus l'Argus io ho dovuto far così guardarle quindi addirittura che bisognerebbe fotografare perché chi le studia le mette in collezione può guardarle al microscopio e lì ha risolto siccome oggi si cerca di non intervenire con la raccolta lo è possibile e se c'è da fare una collezione scientifica si può farlo non sono specie in pericolo però se volete farlo veramente si riesce anche con una buon macro bisogna riuscire però non solo a fotografare i colori delle ali con pazienza ma anche a riuscire a riprendere questo piccolo elemento lo speroncino poi ci sono altri elementi chiaramente che possono aiutare a riconoscerlo e qui c'è quello più comune che troviamo nei prati anche in città si trovava almeno perché anche lui poveretto era comune ma si è ridotto tantissimo è in forte declino è in forte declino l'icarus l'icarus bellissimo vedete anche le sfumature come cambiano anche le femmine possono avere parti blu addirittura io nella collezione una cosa riritata diciamo da altre collezioni ne ho un paio che sono proprio ginandromorfi bilaterali cioè la femmina marrone maschio blu è nato un individuo metà lì blu e metà marrone metà corpo maschio e metà corpo femmina succede nelle farfalle anche in altri atropodi che c'è questo scherzo che si può formare un individuo esattamente diviso a metà naturalmente non in grado di riprodursi ma è metà maschio metà femmina ma in modo assolutamente assurdo dove ci sono specie che hanno questo grande dimorfismo la cosa è molto forte ecco questo è proprio l'icaro blu una caratteristica Gianluca te la faccio dire a te per riconoscerla al volo da altre specie simili beh la presenza dell'oceano nero nella cella ossia quel puntino che vedete sull'ala anteriore vicino alla testa eccolo qua questo è l'occello famoso che è questo qui anche se può in alcuni casi anche se può essere assente e abbiamo la sottospecie i carinus però la morfologia è molto simile si riesce rispetto ad altre farfalle ad altri poliumatos riconoscerlo abbastanza anche se c'è la presenza dell'assenza dell'occello nella cella è un gioco di parole anche su questo bordo bianco perché ci consenterà colpo d'occhio di distinguere da un'altra specie che troviamo sui colli che è molto simile anche se il blu è un po' diverso il bellargus che vedremo poi magari se ci riusciamo a passare Alessandra Bellargus che è macchiettata non è questa ovviamente io passo velocemente con questa specie perché è una specie che abbiamo studiato molto interessante molto limitata sui colli sarebbe importante che chi va in giro la fotografasse per capire dove è ancora perché sta riducendo la reale perché più si chiude il bosco sparisce il sedum treffi in questo caso la pianta dove depone le uova forse anche il sedum che abbiamo album mi pare che vediamo anche sui ceva molto come ma anche da altre parti nelle parti esposte quelle frane ghiaioni che si formano anche i versanti sud questa è una specie mirmecofila vedete qui che sta muovendo le antenne vedete mosse non perché la foto è mossa ma perché le fa vibrare per tastare come fanno le farfalle se la pianta è buona per depore poi con la pancettina lei ci gira e depone l'uovo sotto la foglia vedete la femmina che è scura anche qui il maschio è un po' più chiaro però sono molto scure quando sulle ali superiori e qui vedete anche che abbiamo descritto le uova se le ingrandite le uova delle farfalle sono molto belle hanno delle sculture particolari e il bruco il bruco poi ha delle caratteristiche che devo far vedere vedete queste due macchiette qui sono degli organi particolari che vengono estroflessi quando le formiche sono lontane e permettono degli odori delle sostanze che le fanno un po' inebriare e tenere vicine le drogano praticamente non è l'unica cosa che fanno qui vedete si vede poco una formica vedete vari generi di formica camponotus per chi riconosce il messo sono formichine nere che le avete spesso più o meno grandi e di altri colori qui vedete una pubblicazione che abbiamo fatto anche su altre specie compresa questa che la descrive se la volete trovate il nostro sito micro megamondo potete anche scaricarlo è un poster anche in questo caso che è facile scaricare ecco la descrizione e qui vedete la formichina che sta sopra il bruco perché aspetta la ricompensa il bruco ha un organo particolare qui lo si vede poco ma adesso lo vedremo meglio si chiamano organi di newcomer che vedete quante formiche attirano questa è la crematogaste scutellaris esatto cosiddetta rizzaculo perché vedete come tira sull'addome il nome comune non è molto bello da dire ma è così attira molte specie di formiche e vedete qui la gocciolina dolce l'ho ingrandita ve la faccio vedere è messa dall'organo di newcomer la formica tocca con le antenne il bruco come fanno che gli affidi è la stessa cosa quando la formica li stimano li munge esce questa gocciolina dolce che è il premio contiene amminoacidi oltre che zuccheri le formiche dipendono totalmente dal bruco lo amano lo adorano perdono la testa sapete che le formiche poi sono vespe essenziali diciamo così ecco quando fanno il volo noziale le hanno anche loro eccetera però sono molto aggressive queste specie poi in particolare sono anche carnivore quindi non è facile stare vicino alle formiche lui le ha completamente sottomesse soggiogate ecco qui entriamo in un altro gruppo di bellissime licenide che sono veramente meravigliose una in particolare la dispara era stata considerata anche a rischio a livello europeo la licena delle paludi l'alfleas e la titirus bellissime tutte sono le licene rosse questa è la meravigliosa licena dispara una delle più grandi peraltro Gianluca come dimensione si si dispar perché cosa scusa dispar perché hanno vedete la differenza maschio a destra e femmina la vedete a sinistra anche qui un dimorfismo forte molto accentuato ecco non sottovalutate se vi sembrano belle nelle foto sono molto più belle dal vivo si la vivacità dei colori solo gli occhi ve la danno quindi alla soddisfazione di vederle quasi brillare no si io ho avuto la fortuna di vedere un esemplare maschio appena sfarfallato mi ha colpito subito è una delle prime farfalle che ho fotografato tra l'altro perché si parla del 2010 che ho cominciato a fotografare farfalle e le prime due specie che mi sono capitate sono state la zerintia polixena e la licena dispara due specie protette a livello europeo purtroppo nella mia zona questa è sparita completamente perché era legata ai terreni incolti probabilmente anche la presenza delle formiche ma era legata ai terreni incolti e i pochi terreni incolti che c'erano sono stati l'antropizzazione ovviamente li ha coltivati e la specie da me è sparita non si vede allora questa è una farfalla legata da noi a zone umide anche argini anche situazioni particolari dove c'è rumex o liris o altre per la caris però sono situazioni anche di transizione spesso per cui la farfalla compare e scompare noi l'abbiamo vista volare anche in alto sui colli di passato quindi lei cerca habitat nuovi ma i colli ugani hanno ai loro piedi molte paludi avevano molte paludi è rimasto pochissimo di zone umide perché originariamente avevano proprio un abbassamento del terreno ai piedi dei colli perché c'è un'illuvione da parte della pianura circostante e c'è un abbassamento mentre si formavano paludi naturalmente se guardate tutto a sud dei colli ma anche il Cataio la zona vicino a Castello e Cataio a Battaglia Terme il terreno è nero ecco quelle sono le zone dove trovate l'alicena dispa dove c'è ancora un po' di natura ovviamente anche se è coltivato il territorio bordi i lati dei fossi lei trova l'ambiente dove crescono ma poi le trovate un po' qua e là anche l'abbiamo trovata a Torreglia in varie parti dove c'è ancora quella situazione però è sempre è sempre più difficile vederla devo dire e questa è più comune invece no questa è più comune è bellissima vivere in giardino va sulle piante salita la lavanda lei veramente sta su Rumex e Poligono sono piante veramente che stanno nel giardino più meno meno diciamo gestito bene anche sui pavimenti di asfalto crescono ste piante e in mezzo i sassi e lei riesce a trovare l'habitat per fortuna per essere però piccolina molto più piccola della Dispar molto comune l'alicena Fleas bellissima sempre anche lei e questa la vedete proprio questa fraffaldina questo piccolo bordo che sembra un po' una c'è una codina anche il maschio territoriale ho notato della Fleas è abbastanza il maschio territoriale certo e si può anche appoggiare invece l'alicena Titirus c'è sui colli io l'ho vista in diverse parti sempre legata a prati vicino a boschetti eccetera molto bella anche questa io lo chiamavo Eodes Titirus un tempo adesso è andata l'alicena se vedete questi nomi ve li dico anche perché era chiamata così e anche questa non è una specie rara ma è molto più difficile da vedere non è affatto comune da noi qui sui colli Uganis si trovano in ambienti più freschi non nelle parti più secche almeno quello che ho visto io sì anche se si può confondere di solito si trova nelle colline nel Piede Montane nella zona più fresca sotto le albi mi confermi ecco è molto più grande della Fleas che vediamo qui sì sì se è più grande un pelo forse più piccola della licena della Dispar entriamo adesso anche un altro gruppo sono quelli i teclini che sono più da cespugli e alberi chiamiamoli così alberelli alberi e foresta questo gruppo meraviglioso se andate poi troppi ci trovate i teclini che sono pazzeschi ho delle code lunghissime a colori meravigliosi eccetera ma qui abbiamo delle specie magnifiche questo è Calofri Subi vedo che qui una cosa che mi è passata appunto l'hai citata la Calofri Savis che è una specie che si trova da noi però a confine di Francia soprattutto mi pare che non so anche se arriva dentro al confine nostro si trova in Liguria qualcosina ecco questa è l'unica farfalla tutta verde che abbiamo a parte le notturne ecco le falene però verde brillante metallico che è stupendo da vedere sono pure meravigliose si trova poi sui bordi sulle siepi dovete percorrere lungo i bordi i boschetti le siepi naturalmente il rovo piace anche a lei come stare appoggiata tutte le piante che crescono lungo la vedete poi sono un elenco di piante che si trovano anche sulla frangola è polifaca è polifaca questa è una farfalla veramente meravigliosa anche lei tutti i decenni devo dire qui vedete anche il bruco invece di questo Favonius Quercus che io chiamavo Quercusia Quercus un tempo con una creatura diversa avevo un nome più facile da ricordare e anche queste sono farfalle che non sono facili da vedere perché sono molto mimetiche quando chiudono le ali sono molto così stanno nelle piante anche più in alto non stanno facilmente non scendono a meno che non lo troviate sui fiori che la mette appoggiate allora è più facile e poi si riconosce poi per questi colori particolari qui vedete vedete anche un altro un satiro da caccia che questi dovete guardare queste bande che hanno colorate poco anche evidenti perché queste sono utili per riconoscere dal punto di vista sistematico altrimenti sui colli ugani ci sono un numero limitato di specie se sono andati in giro per l'Italia aumentano e per l'Europa ancora di più quindi bisogna essere un po' più bravi a classificarle per intanto queste che vi mostriamo sono quelle che vivono qui nei colli ugani rosacee in particolare prunus spinoso il prugnolo è una pianta meravigliosa per le farfalle sì anche qui vedete un'altra specie che poi anche qui in questo caso simbionte con le formiche anche se non è un po' il mattino fagacee e quercus qui vediamo su alberi proprio si si chiama satirum ilici non a caso no perché un po' ricorda queste cose e che si distingue poi anche questo dal V album perché guardate i colori più vivaci ma questa W sull'ala la si vede bene la linea vi ricordavo prima che fa appunto sull'ala inferiore qui diventa molto marcata carattere distintivo proprio questo la fa riconoscere immediatamente come specie esatto ecco e poi vi ricordo adesso io ho finito perché siamo arrivati in fondo il prossimo webinar lo faremo sui ninfali di ripieri dei colli uganei speriamo di essere abbastanza state abbastanza esaustive abbiamo fatto prima questo ricordo anche Veronica l'11 giugno saremo un lavoro di luoghi di appuntamento Veronica mi pare abbiamo deciso il ferro di cavallo che è una zona alta biodiversità sulla strada che è comoda non ha traffico si può parcheggiare a battaglia esatto e Villa Beatrice d'Este a Baone e l'Ose di Monte Alto a Monte Grotto Terna Villa Beatrice d'Este che come Batte Rear che stiamo ancora gestendo per conto la provincia di Padova e quindi abbiamo questo parco che è aperto al pubblico grazie alla provincia che fa questo servizio straordinario mette a disposizione un patrimonio bellissimo che dura con aspetti archeologici aspetti naturalistici da un migliaio di anni di civilizzazione tra conventi ville venete poi museo adesso e parco che è tutelato all'interno del parco Colli e che offre un ambiente abbastanza incontaminato attorno e veramente dice la possibilità di vedere qualche specie particolare magari chiederemo a Veronica di non tagliare l'erba per quel periodo è quello che fanno di solito che abbiamo bisogno per gli eventi magari in alcune parti del prato è così se ci sono dei fiori o ci porteremo dei vasetti con dei fiori magari una delle specie che vedremo la prossima volta l'ho ripresa da poco proprio a Villa Beatrice è una specie molto precaria non lo anticipiamo perché non è facile non diciamo qual è ma diciamo che è una delle prossime fantastico allora con questo appuntamento se non avete altre cose da aggiungere io vi lascerei ringraziando ovviamente il parco regionale di Colli Ugani ringraziando la Butterfly Arc e tutti gli amici che avete qui elencati che ci danno una mano ci ringraziano anche ecco vedo qualcuno di quelli che sono collegati spero che tanti si colleghino poi più avanti abbiamo avuto fino a 30 persone collegate e vi sembrerà un numero piccolo non è assolutamente piccolo sappiamo che poi non pensavo così tanti che non è assolutamente facile tutti i loro impegni però perché sanno tutti che possono rivederla la registrata sempre sui nostri siti Facebook che li vedete qui elencati il diario del naturalista Enzo Moreto che spero di togliere Enzo Moreto presto e lasciarlo non ho bisogno di questa pubblicità ma insomma qui mi combinano delle cose che le mie spalle ci mettono i nomi appena un po' di tempo lo tolgo vi prometto e poi il sito Facebook sempre di Butterfly Arc eccetera e YouTube soprattutto YouTube Micro Megamondo trovate tantissime altre dirette e spunti anche diciamo ecco qui salutiamo anche Andrea Pitoveto ci sono molti amici che ci salutano ringrazio Marco io mando anche i loro saluti e salutiamo noi tutti quanti grazie Veronica grazie Gianluca grazie a tutti buona serata buona serata buona serata a tutti togliamoci eccoci qua ecco fatto grazie a tutti